Partenza regolare di questa prima batteria femminile e andiamo a chiudere con la batteria con la squadra di Bellusco che chiude col tempo di 38.80 e anche questa seconda batteria parte in maniera regolare la squadra di Cantù in questa batteria viene eliminata per cambio irregolare chiude in prima posizione la squadra del Brianza in line col tempo di 36.77 è andata questa terza batteria anche qui il cambio a metà percorso per poi tuffarci nel sprint finale e andiamo siamo all'ultima curva il Bellusco squadra numero 77 il Bellusco chiude col tempo di 39.47 il Bellusco chiude